Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo su FanFrance, allora siamo a livello dentro 8 allora, vabbè, devo studiarvela bene, ma quelli piccoli li posso vendere? si, vendi, ah ecco come si fa, così, vendo quello piccolo, per poi allora, riempi l'acqua, ok, io ho già 10.000 ok, allora qua, qua, poi vendiamo ancora quello piccolo allora, qua, prendi, si, vendi, qua dai, gli diamo un po' di spinta qua, gli diamo un po' di spinta anche qua, ancora un po', qui di qua cosa? oh là, così siamo a posto per un po', poi e uno è andato, aspetta, che vendiamo un po' di... dove cavolo è? vendi, ok, ma si dai, diamo un po' di potenza anche qua, così facciamo tutte le cose fatte bene, basta qua la roba e siamo a posto ok, dai qui vendiamo qui vendiamo a me, dai dove cavolo, ah cazzo, dove cavolo... ho fatto una stronzata ho venduto quello grande, ah è cresciuto, meno male allora, vai minchia, 10 ne vuole, oh ma stiamo scherzando? come faccio? ho già finito i soldi, porca proia devo vendere, vendi, allora, uova e un cavallino, vai no, non mi morite, eh dai, tempo, tempo, muoviti non è che c'è la pioggia che piano piano mi da l'erba, se no ok, vai ok, vai allora, vai ancora dell'acqua, vai cosa posso vendere allora? minchia, 10 ne vuole grandi, oh potenzia questo, potenzia questo, questo eeeh, madonna, quanta roba vuole qua allora qua cosa mi serve? questo, questo minchia, allora qua cosa posso comprare? ah, posso comprare tutto qua vendiamo quelli piccoli qui, più le uova stiamo molto, perché abbiamo abbastanza per ora però lo riempio lo stesso qua, cosa mi manca? vai, 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 piglia tutto vai, fra te, però, allora vendi i cavallini piccoli, no ho sbagliato, scusa, stavo vendendo quelli grandi allora, scusa un attimo vendo questi mi libero un po' l'inventario ah, fatti come mi sia rotta, che palle qua formaggio eh, ma lo facciamo dopo quello prima lo pensiamo a fare che è quattro me ne mancano di panini, ancora uno ok, è a posto, i panini siamo a posto vendi, quelli piccoli li vendiamo poi vendiamo le uova no, devo vendere che cazzo vendo questo? che non mi serve ok, il formaggio ok, il formaggio ok, il formaggio ok, il formaggio 3, 4, 5, 2 allora, mi serve il pomodoro quindi il pomodoro e basta, quindi vendo allora uova uova le vendo il cavallo piccolo lo vendo e le anatre che tanto non mi servono e c'è già lo spazio pieno? vedi un po' di bistecche, dai ok ok 7 devo solo far cavalli, allora beh, un cavallo mi manca, si dai e voilà andiamo avanti minchia 10 cavalli 100 soldi vabbè, con i cavalli cazzo guarda che gli fai soldi vabbè 2 ca cazzo 4 3 4 5 5 4 9 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non fa soldi? No, 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 no. Non lo so, vediamo. No, 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 no. Oh, quanti cazzo di... Venti, venti, venti... E che cazzo... Eh, iniziamo a fare un po' di pancake, dai. Venti... 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 Ok. Allora... Allora... Venti, vendi... Ok, i pancake sono a posto, però... Venti... Ok... Ok... Ok, ragazzi, io direi di... Salutarci qui, ci vediamo qui la prossima volta. Ciao... Ok... Ok...